Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno a chi segue anche in streaming sul sito www.nettunotv.tv Edizione delle 13.15 che apriamo subito parlando di cronaca perché un 15enne pakistano ha rischiato di annegare in piscina privata a San Giovanni in Persiceto. Ieri pomeriggio una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Giovanni è intervenuta su richiesta dei sanitari del 118 in un'abitazione privata dove uno studente pakistano appunto di 15 anni aveva rischiato l'annegamento mentre stava nuotando probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito. Il ragazzo è stato soccorso, rianimato e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna in codice rosso. Rimaniamo a parlare ancora di cronaca cambiando per argomento perché il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina poco dopo le 6 sui binari della stazione nella zona tra Calderara e Bargellino per accertare cosa sia successo la prima ipotesi è quella che si sia trattato di un tragico gesto volontario la circolazione dei treni sulla tratta Bologna-Verona è rimasta sospesa per molte ore inizialmente solo in direzione Verona poi anche in direzione Bologna ci sono state alcune conseguenze anche sui treni e dunque sul traffico ferroviario i treni a lunga percorrenza hanno registrato ritardi fino a 100 minuti e la regolare circolazione su entrambe le direttrici è ripresa solo verso le 9 dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria che ha di fatto permesso di far sì che ricominciasse la libera circolazione dei treni sulla linea Bologna-Verona ovviamente si indaga su quello che è successo a quest'uomo nella zona tra Calderara e Bargellino dunque come dicevamo in apertura di notizia rimaniamo ancora a parlare di cronaca cambiamo però argomento perché ieri notte sono costati cari i festeggiamenti di laurea ad un giovane studente di 26 anni dell'università di Bologna che per celebrare l'ambito traguardo ha caricato sul cofano della propria auto un coetaneo scarrozzandolo per le vie di corticella nella città ovviamente di Bologna nei pressi dell'uscita numero 6 della tangenziale la bravata del neolaureato ha però avuto vita breve perché solo dopo qualche centinaio di metri lo stesso è incappato nel controllo di una pattuglia della polizia stradale una volta fermata la vettura gli agenti sospentiti dall'inconsueta eufeoria e dallo stato confusionale dei giovani hanno proceduto a sottoporre il conducente ai classici controlli etilometrici con esito positivo in quanto gli è stata riscontrata la presenza di 1,10 grammi su litro di alcol nel sangue un valore piuttosto elevato che ha portato alla sospensione della patente per 6 mesi cambiamo adesso argomento perché dal 28 luglio al 1 di agosto andrà in scena la decima edizione di Sere Nere nel paese di Monte Acuto delle Alpi nel comune di Lizzano in Belvedere ci racconta qualcosa di questa rassegna, ci spiega di che cosa si tratta Marco Tamarri responsabile del turismo e della cultura dei comuni dell'Appennino andiamo a sentire cosa ci dice si tratta di Sere Nere che è ormai una rassegna consolidata e giunta alla sua decima edizione si tiene a Monte Acuto che è un paesino su un cucuzzolo nel comune di Lizzano in Belvedere e quest'anno il nostro graditissimo ospite, il nostro caro amico Giorgio Diritti noi presenteremo dal 28 di questa settimana, 28 luglio fino al 1 agosto praticamente la sua filmografia completa insomma ma non è soltanto cinema, non è soltanto Giorgio Diritti ma sono anche altri appuntamenti che nelle due giornate di sabato e domenica vanno in scena, presentazioni di libri legati al tema del noir ad esempio c'è l'ultimo libro di Guccini e Machiavelli, ci sarà Loriano Machiavelli i libri di Varese che è appunto un noto giornalista di Repubblica con il commissario Soneri ci saranno le presentazioni ovviamente anche di altri autori ci sarà la musica di Deborah Cooperman che è un folk singer ben conosciuta famosa appunto per i rapporti con Guccini all'Osteria delle Dame diciamo che la montagna è al centro di questo percorso è raccontata attraverso il lavoro naturalmente soprattutto di Giorgio Diritti a cominciare quel film straordinario che il vento fa al suo giro è l'uomo che verrà, che verrà proiettato proprio sabato sera e poi ci sono degli eventi collaterali che in queste due giornate fanno di Monte Acuto una piccola capitale della cultura e del turismo culturale del nostro territorio come mai la scelta del noir? la scelta del noir perché ci piaceva dietro al percorso del mistero e in generale appunto le suggestioni che stanno dietro al mistero riuscire a raccontare una storia vincente che è la storia dei nostri territori e che è la storia come viene vista, come viene interpretata e come viene valorizzata dagli autori che chiamiamo è successo per Pupiavati, è successo naturalmente per la presenza di Montaldo è successo per i tanti registi che sono venuti a trovarci e il noir, il tema del mistero o il tema affascinante che si nasconde dietro a un mistero che non è il tema diciamo scontato semplicemente degli omicidi o degli assassini ma è un mistero che sta dietro anche a quella parte sconosciuta e misteriosa delle nostre montagne come avete sentito la rassegna rende omaggio al regista Giorgio Diritti che ha parlato ai nostri microfoni parlando appunto del piacere di questa rassegna in parte anche a lui dedicata e qualche progetto per il futuro Un grande piacere, una gioia sicuramente diciamo che quei territori comunque mi sono cari poi Montacuto nelle Alpi riesce magicamente a legare anche l'esperienza quasi diciamo occitana nel senso che del primo film quindi una grande gioia veramente Il noir e la montagna sono un binomio che va a braccetto Sì sono un binomio che va a braccetto devo dire tra l'altro al di là della mia particolare dimensione cinematografica è anche molto bello il legame che c'è di quei territori con uno scrittore amico che io ho amato molto che è Gabriele Cremonini e anche vivo questo viaggio diciamo in quelle zone un po' in fratellanza con appunto il ricordo di questa amicizia Sarà presente lei ma saranno presenti anche delle attrici che hanno recitato nei suoi film in queste serate? Sì ci sarà anche Laura Pizzirani che ha lavorato con me nell'Uomo che verrà è vero piacere rivederla insomma tra l'altro poi ha lavorato con Garrone insomma sta facendo un bel percorso molto brava Sto lavorando su un nuovo film lungometraggio di cui ho girato già una buona parte che è legato alle vicende umane e non solo di Antonio Ligabue pittore ho girato nel Reggiano e la Bassa Reggiana poi anche in parte all'estero o in Alto Adige adesso stiamo capendo e abbiamo fatto già un bel po' di settimane di riprese insomma in inverno ci sarà un'altra tranche Quando si potrà vedere completato? Spero nel 2019 dovrebbe andare in sala anzi sicuramente Cambiamo argomento torniamo all'attualità alla cronaca perché come annunciato nei giorni scorsi il sindacato generale di base SGB ha proclamato uno sciopero di 4 ore dell'azienda del personale Tiper della provincia di Bologna per il giorno venerdì 27 luglio cioè domani dalle 11 alle 15 l'azienda precisa che le motivazioni per le quali il sindacato ha indetto lo sciopero pur interessando tutto il personale di Tiper di Bologna afferiscono al settore della sosta temi alla base della protesta sono vari dai carichi di lavoro alla gestione dei riposi e delle ferie nonché dei provvedimenti disciplinari fino alla proevidenza complementare sciopero autobus e treni dunque di Tiper per domani a Bologna dalle 11 alle 15 torniamo a parlare di spettacolo perché è in un certo senso anche di estate delle iniziative dell'estate perché dal 3 al 16 di agosto nel Comune di Ozzano ci sarà la Kermess agosto con noi giunta la sua 32esima edizione ce la presenta il sindaco di Ozzano Luca Lelli il Comune di Ozzano è orgoglioso di ospitare da tanti anni una manifestazione che è cresciuta tantissimo e è diventata un punto di riferimento dell'estate bolognese che raccoglie intorno a sé appunto tanto divertimento ma anche tanta finalità benefica e positiva perché tutto ciò che si raccoglie e ogni anno parliamo di diverse decine di migliaia di euro è destinato all'Istituto Ramazzini per la ricerca molto importante è cresciuto nel tempo l'Istituto Ramazzini ha ricevuto tanto da Ozzano continua a ricevere tanto dalla comunità di Ozzano ma ha anche dato tanto e sta dando tanto ha investito anni fa su una struttura che ha avuto le sue difficoltà ma che sta crescendo è di questi giorni la notizia che sono partiti i lavori ad opera e a carico dell'Istituto per i locali che ospiteranno la nostra pubblica assistenza di Ozzano e San Lazzaro quindi anche se con qualche ritardo da parte di tutti stiamo reciprocamente mantenendo gli impegni in un binomio che si consolida avete sentito della collaborazione con l'Istituto Ramazzini di fatto la 32esima edizione è organizzata da soci e socie dell'Istituto Ramazzini e serve per raccogliere i fondi per finanziare la ricerca proprio dell'Istituto ci dice qualcosa in più anche in merito ai dati che sono stati rilevati nella scorsa edizione Simone Gamberini il Presidente dell'Istituto Ramazzini questa 32esima edizione di Agosto Con Noi è un'edizione che conferma la volontà dei nostri volontari di costruire un'iniziativa che si rivolge non solo alla comunità di Ozzano ma tutta la provincia di Bologna è il nostro principale momento di autofinanziamento è il momento nel quale uniamo momenti di svago di spettacolo e di gastronomia buona gastronomia per raccogliere fondi per l'Istituto Ramazzini per noi è un momento importantissimo è la nostra festa più importante e dobbiamo molto ai nostri volontari che riescono a portare anche il messaggio della prevenzione in un luogo se volete un po' inusuale per discutere di prevenzione ma nel quale tantissima gente viene a contatto con l'Istituto Ramazzini e ci finanzia anche questo per noi è fondamentale nelle passate edizioni che si sono veramente cresciute tanto e soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto oltre 10.000 partecipanti agli eventi finali della festa numeri impressionanti del ristorante che hanno portato anche a un introito per l'Istituto Ramazzini di quasi 60 70 mila euro netti che appunto sono arrivati a sostegno della nostra attività di ricerca voi potete capire come questo sia un valore straordinario grazie al lavoro piccolo grande di tanti volontari e la disponibilità di molte persone che partecipano alla festa che riusciamo a raccogliere le risorse che consentono ai nostri 30 ricercatori di svolgere le loro attività durante tutto l'anno rimaniamo a parlare di festival però del festival del ragù che si terrà a Bologna dal 21 al 23 di settembre questa mattina c'è stata la conferenza stampa per la presentazione del festival e ci spiega qualcosa in più parlando anche del ragù del domani in un certo senso Sara Roversi la fondatrice del future food festival cosa sarà il ragù domani speriamo che continui ad essere diciamo il centro di quella che è la vita della cucina pensando a quella che era la cucina della mia nonna dove si stava in cucina a aspettare che il ragù fosse pronto e col crostino si tocciava nel ragù per andare ad assaggiare quella che era la preparazione dove tutti gli elementi della famiglia diciamo partecipavano cosa sarà il ragù domani e logicamente ci fa aprire un grande capitolo che riguarda il tema del futuro delle proteine come saranno le proteine domani quale sarà la carne che mangeremo ma anche quali saranno gli ingredienti che magari entreranno nel ragù domani logicamente con il progetto del festival del ragù vorremmo preservare e diffondere quella che è la vera ricetta del ragù alla bolognese ma ci piace aprire le porte e dialogare su questo tema anche perché il ragù è diventato un po' il nostro lascia passare quell'elemento che ci ha portato e ci ha reso famosi nel mondo quindi vogliamo ovviamente aprire le porte a chi lo sta facendo con gli insetti a chi la chiama bolognese sauce a chi invece magari a Hong Kong ce l'ha fatta assaggiare in una buonissima lasagna fatta con holly pork che è una carne di maiale su base vegetale che non è maiale cosa succederà durante il festival ci saranno anche attività inerenti proprio al ragù assolutamente ci saranno attività inerenti al ragù cercheremo di portare anche un po' di scienza all'interno di questo contesto quindi sicuramente anche gli studenti del food innovation program saranno coinvolti e cerchiamo di aprire le porte al mondo quindi esperti che vengono da altri paesi start up che sul ragù hanno creato un'impresa e lo stanno narrando chiamandola bolognese sauce che bolognese sauce non è ma vogliamo fargli capire qual è la nostra vera bolognese sauce e comunque se portano i noi di Bologna nel mondo un po' ci fa piacere e quindi il festival sarà sia una celebrazione di quello che è il ragù sarà un momento di comunità convivio con la città e ovviamente parleremo anche di futuro di Pinzolo dei giorni scorsi oggi Bologna tornerà ad allenarsi al centro tecnico Nicolo Galli di Casteldevo l'allenamento previsto questa sera al 17.30 a Porta Aperta dunque la possibilità di vederlo anche per tutti i tifosi ci sarà la possibilità dunque di incontrare Filippo Inzaghi il Bologna si allenerà anche domani con doppio allenamento alla mattina e al pomeriggio e sabato invece solo nel pomeriggio e poi domenica la partenza per Kids Buell e la mini tournée austriaca intanto ieri hanno portato avanti anche i programmi di lavoro personalizzati alcuni giocatori rosso-blu tra questi Gonzales Mattiello e Nagy e hanno fatto le visite mediche Zemaili Kraft e De Lander i giocatori che dunque sono tornati dall'esperienza mondiale ieri hanno fatto le visite mediche le prime oggi concluderanno i test fisici ed atletici era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per essere stati in nostra compagnia l'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il TG delle 19.15 grazie ancora e buon proseguimento di giornata grazie a tutti